buona giornata amici di fano tv benvenuti alla rassegna stampa oggi è giovedì 5 gennaio 2023 e abbiamo un ospite in studio un gradito ospite in studio questa mattina è il professore samuele giombi che è il dirigente scolastico dell'istituto liceo nolfi a polloni di fano con il quale poi commenteremo alcune notizie della nostra rassegna stampa buongiorno professore buongiorno buongiorno a tutti intanto iniziamo con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san giovanni nepuceno neumann è un santo boemo una regione che nel diciannovesimo secolo apparteneva all'austria partito come missionario per new york fu lì ordinato vescovo e si distinse come predicatore tra gli immigrati di diverse nazionalità san giovanni conosceva addirittura otto lingue che allora questi immigrati popolavano l'america quindi si distinse appunto per quest'opera missionaria vediamo anche le previsioni del tempo le previsioni del tempo ci dicono che oggi sulle marche c'è un tempo nuvoloso nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata i venti saranno al mattino deboli da ovest al pomeriggio deboli e proverranno da nord nord ovest in mare poco mosso le temperature oscilleranno dal 8 gradi che è la minima ai 12 gradi che è la massima si mantengono ancora miti e speriamo che ancora questa temperatura non eccessivamente fredda si mantenga anche per quanto riguarda la bolletta del gas e c'è anche un avviso vediamo che oggi fanno tv alle 9 30 trasmetterà la santa messa per l'esequia del sommo pontefice emerito benedetto sedicesimo una messa presieduta da papa francesco questa notizia professor giombi ci dà la possibilità di fare una piccola puntualizzazione su questo papa un papa discusso un papa che alcuni vorrebbero addirittura santo subito un papa però che ha lasciato qualche perplessità tra tradizionalismo e progressismo lei è stato presidente dell'azione cattolica di fano quindi è a conoscenza è stato anche critico qualche volta per fungolare appunto certe situazioni abbastanza così discutibili che che giudizio ha di papa benedetto sedicesimo ma penso sia stato un grande teologo che si sia trovato al al governo della chiesa per alcuni periodi in un momento difficile dopo il pontificato di oitila e abbia sperimentato la difficile conciliabilità fra l'impegno teologico e quello di governo paradossalmente ha detto un commentatore qualche giorno fa io penso che sia un'affermazione molto azzeccata che in un momento in cui abbiamo oggi spesso a varie latitudini a capo di istituzioni diciamo leadership forti con pensieri deboli lui sia stato invece un uomo con un pensiero forte e una leadership debole tutto questo comunque rimane ora nella storia e e oggi celebreremo i funerali di questo grande papa diciamo perché avere un conforto teologico oggigiorno è quanto mai necessario apriamo i giornali a partire dal resto del calino questa mattina vediamo l'apertura dedicata alla pagina di fano feste in fumo il centro osservato speciale feste in fumo è un titolo non molto criptico si capisce abbastanza bene non sono feste che finiscono sono feste però che finiscono in fumo ovvero con la droga allarme stupefacenti si abbassa l'età dei consumatori giovanissimi sorpresi a consumare finiscono nei guai blitz dei carabinieri si abbassa purtroppo sempre più l'età dei ragazzi dei consumatori di droga droga circola anche nelle scuole professore è un problema questo che molti presidi si apprestano ad affrontare lo hanno fatto anche in passato c'è un'opera di educazione di sensibilità di sensibilizzazione non solo degli studenti ma anche delle famiglie cosa ne pensa ma mi sentirei un po di tranquillizzare nel senso che il fenomeno almeno nella nostra realtà non ha questi aspetti così forti così così drammatici nelle nostre scuole della nostra provincia però certamente non è assente la scuola peraltro è un microcosmo che rappresenta la società in cui si trova non si può pensare che sia esente da ciò che la società attraversa come sempre noi agiamo sul livello educativo preventivo informativo ma ce n'è anche uno repressivo che non va che non va sottaciuto abbiamo fatto sempre a scopi preventivi voglio dire abbiamo fatto anche negli ultimi anni con la forza di polizia delle delle presenze di carattere dissuasivo preventiva con unità cinofile contiamo di riproporle anche nel corso dell'anno quindi si sente di rassicurare un po i genitori sì per l'osservatorio che ho io non non vedo diciamo così un emergente questo punto di vista certo occorre essere guardinghi non essere superficiali e lo siamo sta non lo siamo mai stati continueremo a non esserlo benissimo vediamo anche come i controlli in città sono sempre presenti vediamo qui questo trafiletto sorvegliati speciali il pincio la rocca malatestiana e tutti i luoghi della movida movida che si sposta d'estate in zona mare ovviamente d'inverno nel centro storico ed ora parliamo di una manifestazione che ha ottenuto un grande successo e che si è svolta nel palazzetto dello sport il giorno il 3 il giorno della il giorno diciamo così i giorni e che anticipano la festa della befana si tratta però del volley della befana un successo che ha avuto un fine benefico quello di aiutare una associazione benemerita la open house fondazione giò per la quale sono stati raccolti 4 milioni vediamo che il corriere adriatico dedica addirittura all'apertura a questa notizia volley vince la squadra di avis alla fondazione giò 4 mila euro questa la notizia più confortante gradinate piene al palace per il torneo di solidarietà valori pietro valori uno degli organizzatori un consigliere comunale ma è così bene finite le calze per i bimbi la festa della befana professor giombi è una festa così inventata perché in realtà l'epifania non è la befana sono due cose diverse però ancora ragione di essere oggi può sognare sognare il desiderio di un anno migliore epifania però ha un significato diverso vero epifania è un termine di origine greca che poi significa manifestazione sostanzialmente no e nella tradizione cristiana cui noi apparteniamo indica la manifestazione di gesù di nazareth poco da poco è venuto al mondo a questi uomini colti dell'oriente che in qualche misura rappresentano l'universalità in un certo modo delle genti insomma noi cristianesimo è così come le altre due grandi religioni del libro ma soprattutto insieme all'islam una religione di carattere universalistico insomma di carattere di questo genere e quindi sottolinea molto l'aspetto di missionarietà universalistica in qualche modo l'epifania rappresenta ciò nella cultura cristiana la befana invece è un'altra cosa una bella favola diciamo così insomma così come babbo natale prevalentemente di importazione nordica così come anche babbo natale sì 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 ed ora parliamo di alcuni problemi che ricorrono nella stampa quotidianamente vediamo che sul resto del carlino si parla del biodigestore l'opposizione vuole che questo problema venga riportato in consiglio comunale per essere discusso nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra i tecnici di aset e i tecnici di feronia la società privata procede allacramente speditamente dato che è un privato a realizzare l'impianto di cui qui vediamo una bella fotografia se riusciamo ecco ed inquadrarla vedete l'impianto come si inserisce bene nel paesaggio di barchi comunque è un impianto sempre contestato mentre sul corriere adriatico si parla di viabilità si parla di viabilità perché la rotatoria del codma è una rotatoria pericolosa è stata fatta di recente però gli ingressi nelle rotatorie sono molto stretti e nel momento in cui passano bicicletta è un tir veramente per la bicicletta ci sono problemi e non da poco problemi veramente pressanti perché lo spazio è così poco che la bicicletta corre il rischio di finire fuori strada rotatori a rischio il comune ora corre ai ripari l'assessora brunori annuncia la modifica per allargare lo spazio per ciclisti e pedoni la viabilità professor giombi è un problema a fano al mattino alle 8 è tutto un caos tra gente che va al lavoro e studenti che vanno a scuola fino al dopo l'epifania fino al lunedì prossimo credo la città è piuttosto tranquilla non c'è il movimento degli studenti però ovviamente ci sono anche molti volontari che nei punti critici della viabilità no danno la possibilità agli studenti di attraversare la strada in modo sicuro come vede la situazione attorno al campus scolastico ma mi sembra abbastanza tranquilla con questi ultimi anni dobbiamo veramente dare un plauso un ringraziamento alla protezione civile al comune che in qualche modo la garantisce perché aiuta davvero moltissimo la diciamo così la fluidità del traffico studentesco che è un traffico importante a fano gravitano migliaia di studenti ogni mattina provenienti da fano stessa o dall'interland quindi è chiaro che la scuola rappresenta un elemento di intensificazione del traffico questo inevitabile a fano come in ogni altra grande piccola o media città davvero un bel plauso a questi operatori della protezione civile che aiutano molto a qualche modo a rendere il traffico più più fluido traffico scolastico più fluido Sì specialmente la sicurezza appunto per i ragazzi che attraversano la strada nei punti più critici Il Pincio è certamente uno dei luoghi più significativi più critici anche se ci sono mai soltanto due scuole che in qualche misura gravitano sul pincio delle nostre scuole fanesi scuole superiori tendo a dire però resta comunque il punto la zona più critica senza dubbio accanto anche alla zona della stazione dove oppure ci sono questi volontari della protezione civile che ci danno un bel aiuto Perfetto, i Battisti per esempio è uno dei centri di attrazione importanti E dato che parliamo di scuole vediamo questi articoli che figurano sulla pagina del Corriere Adriatico però per quanto riguarda Pesaro Super palestra dell'Olivieri il 20 gennaio via Alcantieri La struttura ospiterà i ragazzi di tre scuole e delle società sportive di mini volley e mini basket Nel progetto esecutivo, vediamo qui se inquadro bene il titolo ecco, nel progetto esecutivo sono previsti anche parcheggio a raso e camminamenti pedonali Poi abbiamo anche un'altra pagina che riguarda il polo per l'infanzia di via Rigoni Ci sono 540 giorni per ultimarlo, tra due settimane scadono i termini per le manifestazioni di interesse E la cosa importante che si verifica adesso rispetto al passato è che ci sono dei termini precisi per l'ultimazione dei lavori altrimenti si perdono i finanziamenti e questo sollecita un po' le ditte che eseguono appunto gli interventi stessi perché le eseguino nel modo dovuto Parliamo di scuole, professore, finanziamenti Insomma, è un po' la manna del cielo questo PNRR Lei mi diceva poco fa che ci sono due modi per ottenerli Uno è quello che si riferisce ai comuni Uno è quello invece che si riferisce alle scuole stesse Ebbene, il liceo Nolfi Apolloni ha dei progetti che ha presentato per dei finanziamenti Di cosa si tratta, professore? Sì, appunto il PNRR è attingibile sia dagli enti locali I fondi PNRR per le scuole, per essere più precisi Sono attingibili sia dagli enti locali che possono presentare progetti Prevalentemente legati all'edilizia scolastica Agli enti locali perché hanno questa competenza I comuni per le scuole del primo ciclo Le province per quelle del secondo ciclo E poi ci sono anche altre linee di finanziamento In cui possono concorrere, attingere direttamente le scuole dal PNRR Direttamente le scuole In questo caso le scuole direttamente non tanto, non affatto meglio Per l'edilizia scolastica che invece è materia di competenza dell'ente locale Quanto per progetti di carattere didattico Anche di, diciamo così, di nuovi arredamenti scolastici Di allestimento aule, di allestimento ambienti didattici Sono gli ambiti su cui si muovono i progetti diretti delle singole scuole La nostra è il liceo Norfio Polloni Ma come anche altre della città, della provincia naturalmente Sono progetti anche di grosso importo È vero che sulla scuola stanno arrivando, arriveranno nei prossimi mesi I progetti vanno presentati ordinariamente entro i prossimi mesi Molti, molti soldi, finanziamenti molto, molto consistenti Anche con procedure che forse potrebbero essere un po' più snelle sul piano burocratico Ma in ogni caso tali sono Certo, qualcuno potrebbe anche avere qualche perplessità nel momento in cui E io sono tracostoro, non lo nego Nel momento in cui piovono, mi permetta la metafora, sulla scuola Una serie di consistenti finanziamenti per acquisto strumenti tecnologici O per allestimento ambienti didattici In scuole dove spesso invece, lo constatiamo tutti i giorni Nelle scuole della nostra provincia, della nostra nazione direi Scuole dove non c'è ancora idoneità antisismica per esempio Idoneità antisismica ce l'hanno poco più del 10% delle scuole italiane Non è previsto obbligatoriamente dalla legge E dunque è possibile non averla Ma è un dato critico che non ce l'abbiano un numero così alto di scuole Oppure scuole in cui esistono impianti idraulici ammalorati È una realtà quotidiana Dunque, far piovere investimenti così forti, così consistenti In realtà così critiche E qualche dubbio lo lascia Io direi, dopo aver speso tutto ciò che possiamo spendere Per rendere idonei e appuntino gli edifici Allora acquistiamo strumentazioni Non prima Ma questa è una perplessità che mi permetto di, come dire Tenere come riserva personale Beh, comunque sono delle perplessità giustificate Perché anche ieri Fano è stata interessata da due scosse di terremoto Quindi, insomma, non è una cosa peregrina Dato che da molto tempo, da diversi giorni, insomma, Fano trema Parliamo un attimo anche del Carducci, professore Che punto è la situazione? Allora, l'ex Carducci, come forse molti fanesi sanno Era la sede dell'allora istituto magistrale Poi una delle sedi del, ne ho diventato poi, liceo Nolfi-Apolloni Dal 2019 a settembre è stata dichiarata non agibile sul piano statico Dalla provincia che ha correttamente eseguito le verifiche che andavano eseguite E da allora è una sede che deve essere dismessa Anzi, demolita per essere ricostruita Esiste un finanziamento, anzi un cofinanziamento Provincia più Stato Complessivi oltre 9 milioni di euro La provincia ha già, diciamo, accertato la sua parte Che è diventata nel tempo di circa 4 milioni, quasi 4 milioni Lo Stato ha anch'esso accertato la sua parte di 5 milioni Ma questi 5 milioni che lo Stato deve girare alla provincia Finché la provincia poi attivi il meccanismo Sono ancora per intoppi burocratici Che davvero sono deludenti, amareggianti, sconfortanti, astenuanti Lo dico come cittadino, ancora prima che come preside Fermi al Ministero Si tratta di formalismi burocratici Un decreto che va fatto per via interministeriale Anziché meramente ministeriale E cose che non sto a dettagliare Speriamo che si sblocchino a giorni Ma siamo ancora a questo punto Esiste il progetto Anzi la provincia ha già mandato al progettista di effettuare il progetto C'è un progettista già stato incaricato Una ditta veneta se non erro E attendiamo che la burocrazia sblocchi questo impasse Che è veramente estenuante E davvero deludente Ma a giorni contiamo che l'impasse burocratico A questo punto di carattere ministeriale si sblocchi Allora noi facciamo appello ai nostri parlamentari Perché si interessino anche di questo problema E cerchino di risolverlo Perché insomma non dovrebbe essere una cosa difficile E a questo proposito apriamo il Corriere Adriatico Nella pagina delle Marche E vediamo che ci sono delle nuove nomine Nomine buona la seconda Per le Marche Cenerentola E l'ora della ribalta a Roma Il primo tempo nella formazione della squadra del governo Meloni Era stato un clamoroso insuccesso Dato che c'era solo Mirco Carloni Che aveva ottenuto un posto di prestigio Quale presidente della Commissione Agricoltura Ora invece c'è la nomina anche di Guido Castelli Di Fratelli d'Italia Lo vediamo qui in questo titolo Come commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Il 30 dicembre 2022 La Premier ha firmato il decreto di nomina Quindi ci sono due rappresentanti Che hanno una leva di potere piuttosto importante E noi ci riferiamo a loro Perché appunto risolvino anche questo problema del nostro territorio C'è anche una presa di posizione positiva Da parte di Francesco Casoli Che è il patron di Elica Che dice che Fin qui ero deluso delle scelte di questo governo Contento ora di dovermi ricredere Casoli, patron di Elica La vicinanza tra Quaroli e Meloni aiuta E beh certo Le relazioni di esponenti dello stesso partito aiutano E a proposito di scuole Vediamo come a Mondolfo Il giovane sindaco di Nicola Barbieri Annuncia investimenti anche nelle scuole Il sindaco di Mondolfo annuncia interventi Per finanziamenti di 10 milioni Una cifra sostanziale, considerevole Sempre giunta dal PNRR E tra gli interventi c'è la viabilità e le scuole Le scuole Soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento sismico Proprio quello di cui aveva parlato prima il preside Giombi Per la media Fermi Che ha richiesto opere per circa 3 milioni di euro Altri fondi sono destinati alla riqualificazione Alla sistemazione della materna e della primaria Campus E soprattutto grazie al finanziamento del PNRR Di 1 milione e 840 mila euro Daremo il via, ha detto il sindaco Alla realizzazione a Centocroci di un nuovo asilo nido Quindi pensate quante provvidenze Vengono dirottate nel sistema scolastico Vediamo anche la pagina di Senigallia Dove sono stati deliberati degli alloggi Nello storico collegio di Pio IX E la polizia locale trasloca Alex Gill La giunta approva il progetto Anche qui soldi dal PNRR 1 milione e 300 mila euro Verranno realizzate residenze per gli anziani Ora apriamo il resto del Carlino Continuiamo anzi a leggere il resto del Carlino Per parlare un pochino del dopo Natale Dopo Natale Come ha trascorso il Natale, professore? Bene, si immagino in famiglia, tranquillo In famiglia, in famiglia, qui a Fano Ebbè, si è mangiato a Natale Perché il pranzo è anche un aspetto sociale Si riunisce la famiglia, si riuniscono gli amici Si sta insieme E si passa, si dimenticano un po' i problemi E ancora i problemi purtroppo ce ne sono E dopo cosa succede? Succede che un po' ci si trova appesantiti Allora il Natale è da smaltire In titola oggi il resto del Carlino Guai però a saltare i pasti I consigli del nutrizionista fanese Colazione a pranzo, completi E magari a cena ci possiamo limitare Ricordate il movimento Non dico di fare attività fisica Ma semplicemente camminare Occorre fare una bella passeggiata Anche di 15-20 minuti E questo aiuta ad invecchiare bene Professore, è vero? Lei cammina, fa esercizio fisico Di solito noi siamo obbligati a stare seduti Davanti magari a un computer Davanti a una scrivania Però insomma, movimento aiuta No, no, ma noi abbiamo tra l'altro Accanto a Fano Dei luoghi meravigliosi Basta prendere la macchina Con mezz'ora di macchina Sia alle pendici delle nostre montagne Che hanno poi sentieri Ancorké poco ben tracciati Ma comunque molto affascinanti Tra Catria, Nerone, Cucco Io li ho scoperti di recente E davvero è una ricchezza Di cui forse non ci rendiamo Fino in fondo conto questa È vero, è vero E ricordiamo anche un emendamento Al bilancio regionale Che ha fatto a questo proposito Il consigliere regionale Luca Serfilippi Per quanto riguarda un finanziamento Dei sentieri lungo il Metauro Sono sentieri che al momento ci sono Però non sono certo In uno stato decente Alcuni sono stretti Alcuni sono pericolosi Quindi se vengono poi Valorizzati Sistemati Costituiscono un bel motivo Per fare una bella passeggiata Lungo il Metauro Di segnalare Cosa che ho rivisto Anche qualche giorno fa Dando verso il Monte Paganuccio C'è la possibilità Di ripercorrere tutti i luoghi Della cosiddetta Banda Grossi Di allora Di fino a 800 E sono luoghi Davvero affascinanti Si cammina Senza troppa fatica Per il tempo che si vuole Passeggiate brevi O medi O lunghe Luoghi affascinanti Tra l'altro Su questi luoghi Anche della storia Della nostra cultura Della nostra realtà Restiamo nella tutela Dell'ambiente Il nostro bell'ambiente Che è veramente Una cosa da valorizzare Il vice sindaco Fanesi Giudica Giusta La scelta Che è stata fatta Per la piantumazione Nel campo di aviazione Quella piantumazione Che era stata contestata Dagli ambientalisti Perché diceva Che non si può mettere Un bosco Nel campo di aviazione Ci sono addirittura 5.000 alberi Che stanno per essere Piantati Perché quella zona Deve restare a Prato Perché è un luogo Di 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 Atterraggio Diciamo così Di molte specie Di uccelli migratori Che lì magari Ci stanno per diverso tempo Nidificano E quindi se poi Ci sono gli alberi Non possono più sostare Il vice sindaco Fanesi Scelta giusta Gli alberi Al campo di aviazione I 5.000 alberi Al campo Sono la scelta giusta Dice Fanesi L'amministrazione comunale Vuole creare Un parco urbano Aperto E a servizio Della città Mentre gli ambientalisti Che non hanno sempre La verità in tasca Vogliono che l'area Sia recintata E preclusa Ai Fanesi Insomma Gli ambientalisti Si sono a favore Degli animali E quindi degli uccelli Mentre l'amministrazione comunale Vuole che il campo Sia aperto Alla frequentazione Del pubblico Il campo di aviazione È una risorsa Professor Giombi Per tutti noi Ed è bene Mantenerla intatto Cosa ne pensa? Ne sono nole competenze Per entrare nel merito Tra piantumazioni o meno Ecco veramente Non sono competente Certamente come cittadino Dico che È un bel polmone Fanua Non è ricchissimo Di polmoni verdi Occorre che ci sia Occorre preservarle Queste altre Tra l'altro Occorre anche conciliare In questa realtà L'esigenza di Mantenere E avere un luogo Un luogo Diciamo così Verde A servizio della città Ma anche Di garantire Uno sviluppo aeroportuale Che non è Di minore importanza È una difficilissima Conciliazione Mi rendo conto Pergola Nuova caserma Dell'arma Cercasi Emanato dalla prefettura Un avviso pubblico Per l'individuazione Ed un immobile Da acquisire In locazione E adibire A sede Dei militari Vediamo ancora Sul La pagina Del resto Del carlino Saldi Tutto è pronto Per il boom Oggi È la prima giornata Dei saldi I giudizi Sono sempre Alternanti C'è Che gli dice Che è un Evento positivo Altri invece Che non risolve La situazione Dei commercianti Comunque oggi Chi vuole comprare Un capo Di abbigliamento Professore Può avere Qualche sconto In più E quindi Può approfittare Di questa notizia Ebbene Era l'ultima notizia Che noi segnaliamo Per la nostra Rassegna stampa Ringraziamo Il professor Giombi Di essere stato Con noi A voi Vi auguro Una buona giornata A risentirci domani Alle ore 7 Grazie per l'ascolto Grazie per l'ascolto